Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video La mia night routine Vi farò vedere da adesso che sono le 4 e mezza, quasi le 5 Quello che faccio alla sera Adesso appoggerò la telecamera Allora ragazzi, io alla sera verso le 5, dipende dal giorno Adesso io sono qui a casa E io verso le 5 e mezza devo fare musicalità giovedì Oggi è giovedì e quindi verso le 5 e mezza devo fare musicalità Però poi faccio merenda Quindi possiamo andare a fare merenda Perfetto Sono qui con la mia merenda La merenda di oggi è un succo di arancia rossa Se lo vedete Finito questo io solitamente vado a vedermi la tv Quindi andremo a vedere Sono tornata, sono andata a fare una cosa giù E niente ragazzi, per adesso Ho visto un po' di tale, ho visto un po' di youtube Però mi sono un po' stancata Quindi io direi di sistemare bene il letto E sistemare anche bene la scrivania Che poi devo fare anche una cosa Iniziamo 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 Bene raga Adesso musicalità Però non potrò filmare Ovviamente E quindi ci vediamo dopo musicalità Allora a dopo Ragazzi sono ritornata Ho appena finito musicalità Ho fatto mezz'ora E è andato tutto bene Quindi adesso sono le Magari se Sono le 18 e 7 E ormai devo andare a lavarmi E a farmi tutta la skin care Per prepararmi per la sera Quindi andiamo a prenderci le cose Mi preparo e prendo le cose Possiamo andare Mi sento tutta appiccicosa Quindi mi dovrò fare Una buona skin care Skin care Sinceramente Non bisogna fare Inizialmente Ho libero il bagno Scusate il buio Ma Non c'è sempre casino Quindi ora No ragazzi Ah Mi dovrò farmi vedere Il mio bellissimo outfit Mi sa che stavo Perché qui si sta morendo Di caldo Io ho un mio outfit Scusate che bello Outfit of the day Niente raga Adesso ci facciamo La skin care Scusate Sono 100 fammi Skin care adesso Perché adesso devo Lavarmi E ci vediamo dopo Quando farò La skin care Ragazzi Non c'è fatta Non ho fatto i capelli Perché Mi sono già messo i pigiama Così Ero già pronta Per fare la skin care Quindi adesso devo fare la skin care Ero La skin care Ecco Abbiamo un nostro Cerchetto E Leghiamo i capelli Vediamo se riesco Non c'è Ma c'è Prima misa Pallina E lo spargo Sul furio Lo so Ragazzi Che Dette Quale Per sto furio È rotto Che belle Ma è È molto rotto A parte che lo usavamo sotto la doccia Mamma mia che faccio E' caduto E' lasciacchiamo questa faccia super E' lasciacquata, bella ripulita Prendiamo il nostro asciugamelo Asciugamelo Oh il trucco Adesso me lo tolgo C'è un po' di struccarmi C'è un po' di mani e lavati di struccarmi Ok perfetto E' perfetto raga Dopo averci lavato la faccia che sembra un barboncino Cos'è di quei barboncini tutti bianchi? Eccoci qui Preparati in massima potenza E ci andiamo a prendere Ok Questa qua ne posso? Ci andiamo a prendere la nostra fettuccia E poi andiamo giù dai nostri Mamma mi sto per svenire Allora mettiamoci questa felpa Super Faccio super Madre Mettiti dentro Mi sa che la posso rincontarlo Sembrati Ah che bella Ma che bella è Questa fascetta Tutto dopo un cusso Lo abbatti dei messaggi Vedere la mia cover Perché ci ho messo su questi ferrini attaccabili E poi ci ho fatto tipo un cerchio Sulla Apple Bellissimo Ehm Niente ragazzi Andiamo giù Questa non si fa Non si fa Non si fa E' troppo Super Wow Oh my god Wow Usciamo un minuto per vedere Oh my god Oh my god No E' nega No dove scappare Non so neanche cosa mangeremo stasera Oggi a pranzo abbiamo mangiato una McDonald Ma che corsa Poi Ho un retroscena molto diverso dagli altri youtuber Ovviamente perché ho dietro Un cerchio Una ventola colorata E praticamente tutta la stanza rosa Però Genia Che sono io Che sono genia io Quindi faremo così Adesso Ehm Dovamo Che sono i Che sono i Che erano Che erano Che erano Che» Che erano Oh la Che erano perfetto questo questo retroscena è più carino e niente ragazzi adesso sono le 6 e 3 e mezza dovete sapere che questo non l'ho già sbagliato sono le 8 e 24 e sono le 6 e mezza e io non so che fare non so cosa fare mi sa che disegno disegnerò un bellissimo fiore raga io non so disegnare non sono portata per dire questo fiore all'ora lo colorerò in questo colore mi piace molto faremo i pietari di tutti colori diversi così e questo è il risultato che ve ne pare adesso vedremo che sono e fare quasi le 7 e la mamma oggi fa il pure fa il pure la mami questo fetido disegno non ce n'è ancora a fare che ritagliarlo comunque questa night routine mi sta piacere questo è la mia postazione ovviamente lo sfondo di school of rock poi ecco il mio disegno che non so dove attaccherò però ora mi farò venire in mente qualcosa credo che attaccherò credo che lo attaccherò sul letto quindi adesso ci diamo a fare io con le canzone di Harry Styles scrivetemi scrivetemi giù nei commenti se anche voi piace Harry Styles aspetto le vostre risposte se vi piace Harry Styles a me piace e so che c'è una persona che forse risponderà che a cui piace molto Harry Styles ragazzi sono quasi le 7 quindi adesso andiamo giù e vediamo cosa stanno facendo le persone ti ero al tuo telefono ecco dove era finito era in cucina spostati un po' qui la cosa stai vedendo? non so stai vedendo stai vedendo Lutovicauciati ragazzi comunque vi volevo dire sono salita intanto e vi volevo dire che ecco così mi lo abbiamo appena in bianco bellissimo questo questo volevo dirvi che fra poco mangeremo e io in questo arco di tempo non ho ancora visto un film da sola e ovviamente me lo avrei detto da sola e andrà su mia sorella si ci vediamo dopo con il film a dopo ragazzi stiamo facendo il popcorn e niente allora ci vediamo dopo e aspettiamo che i popcorn siano ovviamente pronti sento già il profumo che è buono a dopo e ieri non ho potuto filmare la fine quindi niente spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e credo che sabato uscirà un nuovo video adesso vediamo un po' come farlo niente ciao 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 ciao